Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Oggi finalmente Match Day. Oggi si gioca contro il Toro. Finalmente ragazzi avevo proprio voglia di vedere una partita della Juventus e di ritornare a parlare di campo perché questa settimana con qualche giorno di tempo per preparare la partita per i ragazzi ha fatto sicuramente bene perché sono stati lì con Alleri, hanno fatto le loro cose, si sono preparati al meglio. Per noi tifosi è un'agonia quando non gioca la Juventus per così tanto tempo e quindi da adesso fino a quando giocheremo il 22 con il Villareal quindi nell'arco di pochissimi giorni inizieremo a vivere delle giornate concentrate piene di emozioni quindi come al solito mi piace a questo video di presentazione della giornata del derby e scaricate OneFootball il link per farlo è qui sotto in descrizione. Non perdetevi assolutamente un'applicazione con questo potenziale che possa darvi tutte le informazioni per arrivare preparatissimi a questo derby perché la formazione che andremo a vedere anche in questo video potrebbe cambiare da un momento all'altro con OneFootball aggiornamenti in tempo reale Allora partiamo subito con un dato interessante che ho letto negli ultimi, ascoltate bene, negli ultimi 8, anzi negli ultimi 9 derby disputati in casa della Juventus in 8 degli ultimi 9, 9 in 8, la Juventus ha segnato almeno un gol dall'ottantesimo in poi tra l'altro mi viene in mente che anche quello d'andata, lo vinciamo con un gol di Locatelli veramente nei minuti finali ma ovviamente si giocava in casa del Toro, invece negli ultimi 9 derby disputati in casa almeno in 8 la Juventus ha segnato dopo l'ottantesimo Io ho questi ricordi legati al derby, al di là di Pirlo, di Quadrado, dello stesso Locatelli anche quando ho iniziato a guardare il calcio, appena i primi anni mi ricordo un derby deciso da Treseghè negli ultimi minuti un derby deciso da Mauri negli ultimi minuti quindi veramente ormai ragazzi è il derby di Torino è fatto così, è una statistica che torna fuori e questo derby di Torino, ragazzi, c'è da stare attaccati al televisore fino all'ultimo secondo veramente, non si può scappare e tra l'altro questo derby di Torino in particolare sarà storico storico perché, dato che abbiamo parlato di dati, di statistiche ce n'è un altro che torna fuori ed è molto molto interessante ed è il seguente dal 2010 ad oggi non c'era mai, mai, mai stato un derby di Torino senza contemporaneamente Bonucci e Chiellini dal 2010 ad oggi almeno uno dei due c'era sempre che fosse stato Chiellini, che fosse stato Bonucci, c'erano sempre oggi, per la prima volta negli ultimi 12 anni invece mancano entrambi che cosa significa questo? il tempo passa per tutti, lo sai nessuno indietro lo riporterà neppure noi, cantava Max Pezzali ed è proprio così capite che si respira quest'aria di cambiamento di fine storia, di fine ciclo perché noi siamo stati abituati negli ultimi anni nell'ultima decade ad avere alcuni ritornelli che ci tornano in mente come Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini per iniziare le formazioni solitamente in difesa da qualche anno non possiamo più nominare Barzagli da qualche anno non possiamo più nominare Buffon c'è stato il momento in cui non potevamo nominare Bonucci Chiellini è l'unico superstite dalla prima Juve di Conte ad oggi in realtà Chiellini è l'unico superstite da calciopoli in poi praticamente dalla serie B però insomma per intenderci stiamo veramente arrivando alla fine di un'era è giusto così perché è ovvio è giusto dare spazio anche alle nuove generazioni però capite bene che un pochino di amarezza di sconforto nel fatto che davvero sono passati così tanti anni e forse non ce ne siamo nemmeno accorti perché io credo che il calcio sia la soluzione migliore alla quotidianità tu hai la tua vita schedulata va avanti così tutte le giornate divise tra lavoro tra affetti tra cose da fare e poi c'è il calcio che è quella nota che ti dà la possibilità di rilassarti finalmente davanti alla televisione con una birra in mano a guardare 90 minuti e poi quei 90 minuti vanno a riproporsi riproiettarsi all'interno della tua quotidianità e il giorno dopo a parlarne con gli amici adesso il giorno dopo a venire qua sul mio canale ad ascoltare quello che ho da dire a commentare quello che avete invece da dire voi quindi è un'evoluzione il calcio da ormai più di 100 anni sta svolgendo questo ruolo di accompagnarci all'interno delle giornate e pensare che sono passati 12 anni dall'ultima volta in cui non c'erano stati né Bonucci né Chiellini beh un pochino mi mi destabilizza probabilmente all'epoca che ne so Chiellini era infortunato Bonucci non era la Juve e quindi è andata così però veramente pesante poi c'è il discorso legato alla formazione ieri abbiamo visto la formazione probabile che era stata approvata da Allegri il tridente dovrebbe essere confermato e questi dovrebbero essere gli undici titolari Alexandro Artur e Zaccaria sono questi i giocatori che hanno vinto i ballottaggi che ieri erano stati evidenziati io dico che è una formazione che ci può assolutamente stare aggiungo che secondo me in questo momento tra Artur e Locatelli non c'è partita farei giocare sempre Locatelli anche perché nelle ultime partite ha praticamente sempre giocato Artur tranne con l'Atalanta dove ha giocato Locatelli per un motivo Locatelli era squalificato poi si è fatto la partita di Coppa Italia in panchina è partito titolare con l'Atalanta dovrebbe partire in panchina anche oggi quindi non è nemmeno probabilmente un discorso di stanchezza forse più per preservarlo in vista della Champions non lo so è una scelta che se colora dovesse essere confermata mi lascia un po' perplesso proprio perché secondo me in questa stagione abbiamo visto una differenza abissale 3-2 calciatori però non è un problema quindi sostegno da Artur dovesse scendere in campo lui anzi come ben sapete per me possiamo anche schierarli tutti e due insieme che non è assolutamente un problema vediamo come andrà la formazione circa è quella che mi aspettavo ieri abbiamo fatto la probabile formazione nei confronti di quello che ha detto Allegri in conferenza stampa e di quelle che erano le assenze era venuta una roba simile con un paio di ballottaggi questa dovrebbe essere quella definitiva vediamo se non cambierà niente da qui alla fine tra l'altro io mi sono ascoltato anche la conferenza di Juric Juric che mi ha fatto anche ridere perché due o tre robe sono state divertenti ha detto che comunque lui respira all'interno di Torino questa passione per il Toro ha invitato anche i tifosi ad andare allo stadio ora domani stasera non domani siamo in casa e non siamo nello stadio del Toro però lui ha chiesto questo sostegno da parte dei tifosi e tra l'altro c'è questa netta contrapposizione nei confronti di Allegri perché Juric ha detto no il nostro obiettivo principale è quello sempre di giocare bene poi vediamo che cosa ne viene fuori il livello di prestazione perché l'obiettivo è vincere ma prima di tutto giocare bene non credo che sentiremo mai una frase del genere uscire dalla bocca di Allegri quindi c'è questa veramente netta contrapposizione tra i due Juric ha detto marcheremo a uomo su uomo il loro tridente perché è cambiato qualcosa ora che c'è Vlaovic quindi la partita che immaginavamo poi magari cambierà qualcosa ma penso proprio di no e noi avremo i tre uomini davanti che andranno a marcare i loro tre uomini dietro a giocare uno contro uno probabilmente anche in ripartenza e in verticalizzazione a proposito di tecnici del Torino chiudo veramente con una mini polemica ma è un sassolino che mi voglio togliere dalla scarpa perché tutte le volte che si gioca con la Juve no che cosa succede si va a ripescare riesumare personaggi che magari erano stati anche dimenticati che ormai sono usciti dal mondo del calcio fuori dai radar fuori dalle prime pagine dei giornali e non la facciamo una bella intervista avventura e noi facciamo la domanda inerente al VAR agli errori arbitrali perché Ventura dice se ci fosse stato il VAR all'epoca del mio toro avremmo vinto almeno 5 o 6 derby in più perché perché quelli che hanno vinto loro più che per meriti della Juventus sono stati errori evidenti quindi col VAR avremmo avuto almeno 5 o 6 derby in più e io Ventura vorrei rispondere in un modo abbastanza schietto e cioè che senza Gian Piero Ventura sulla panchina d'Italia probabilmente avremmo partecipato almeno a un mondiale in più perché questo è un dato di fatto con la speranza che ci si possa qualificare quest'anno per il mondiale dopo uno splendido europeo vinto quindi piena fiducia e supporto a Mancini sperando che possa fare quello che non è riuscito a fare appunto Gian Piero Ventura che in questo momento probabilmente potrebbe anche godersi no? la pensione piuttosto che tirare fuori queste cose ok? e niente un abbraccio e noi ci vediamo stasera per live reaction di Juventus Torino per il post partita per le pagelle domani quindi tutto il solito programma la solita programmazione che trovate qui sul canale a dopo ragazzi di Juventus Torino per il post partita per il post partita di Juventus Torino per il post partita per il post partita per il post partita